Ho letto che comincio a seguire i giovani in quel ruolo là, no? Sì, faccio scouting e cerco di trovare giovani forti, promettenti. Non è facile, ce stanno in giro. Ma nel tuo giorno hai parlato di Tonali, è bravo? Sono quello del Brescia, è forte. Tonali è più forte di tutti. Sì? In quel ruolo è più forte di tutti. Sì, infatti in tutto e per tutto cercherò di prenderlo. Di prenderlo? Sì. Se è sveglio, viene subito. Se è sveglio, se dorme dai piedi. Ma va via dal Brescia subito quest'anno? Io penso che sì, dai. Sono in quest'anno che si manda. Dipende pure il campionato, se rinizia o non rinizia, il mercato quando si fa. Che è un bel casino.